bene ragazzi allora questo è l'assegno l'ora è finita potete tornare in classe grazie sei pazzo vuoi fumare proprio qui ma chi è io ma perché tu parli certo ma se vuoi posso anche gridare qui siamo a scuola non ti hanno insegnato che non si può fumare così però non ci sono scuse non si fuma soprattutto qui perché qua qui ci sono sostanze che possono esplodere e molti solventi organici sono infiammabili vero ragazzi certo ne sappiamo qualcosa quando entri qui devi fare attenzione a ciò che tocchi a come ti muovi esagerato qui ci sono sostanze tossiche infiammabili volatili corrosive esplosive in altre non bisogna toccare le apparecchiature elettriche con le mani bagnate potresti creare un cortocircuito e morire fulminato basta ma cortesia allora io sono trasparente potrebbero contaminarsi le piastre in cultura puoi causare la proliferazione di microrganismi germi batteri inoltre si potrebbe contaminare il tuo cibo con sostanze tossiche per non parlare poi del rischio di contaminazione dei reattivi col cibo dove mai la via di fuga è dall'altra parte che hanno messo pure il cartello ma che ne sai tu grazie a tutti